Insieme alla compagnia Godot, Maison Godot, presentata oggi in conferenza stampa, molto frizzante questa conferenza stampa, la dodicesima edizione di Palchi Diversi Estate, siamo a Palchi Diversi Estate 2022, la compagnia Godot non si è mai fermata e non si fermerà mai. Allora, grandi nomi, grandi ritorni, questo palcoscenico verticale che ci seduce in una maniera straordinaria, Vittorio. Sì, sì, il teatro verticale è un lacconiato per me da Nilo Amione e mi piace molto, è una cosa che mi piace molto perché rappresenta molto il nostro teatro, e la verticalità è quindi una cosa persistente nel panorama dello spettacolo e del teatro. Sì, la dodicesima edizione di Palchi Diversi quest'anno raddoppia perché c'è una novità, non solo il castello di Dona Fugata e quindi la scalinata, questo palcoscenico che ci siamo inventati una volta e che è diventato a casa nostra per tanti anni, però una casa in affitto, diciamo, non di proprietà. E ci siamo inventati anche un piccolo, un piccolo, un piccolo grande appuntamento anche a Ragusa Ibla, al cortile dell'università, ci faremo o riproporremo un grande spettacolo, produzione dell'anno scorso, cioè l'Avaro di Moliere, perché ricorrono in 400 anni dalla nascita. Mentre al castello di Dona Fugata proporremo una ripresa, cioè il Giganti della Montagna, che è sempre uno spettacolo che abbiamo fatto, di Pirandello, l'anno scorso con grande soddisfazione, uno spettacolo che ci appartiene molto perché ci rappresenta, e due nuove produzioni, la Fattoria degli Animali di Orwell e Ecuba di Euripide. Federica, ogni anno ci stupite con i vostri lavori, ma sempre, diciamo che siete una compagnia destagionalizzata, perché voi non vi fermate e non vi siete fermati neanche durante la pandemia, quindi siete stati vicini al vostro pubblico, chi vi ama, chi vi segue sempre. Allora, c'è anche un momento che vogliamo rivivere e che è molto particolare, molto piccante. Ma allora appunto Vittorio ha parlato di questa stagione così ufficiale, che sono appunto le riprese e gli spettacoli nuovi, però sicuramente troveremo il tempo e il modo per rappresentare anche nuovamente uno spettacolo nuovo che ha debuttato recentemente in occasione della manifestazione Città Teatro, voluta dal Comune di Ragusa, e che è appunto la città che non vorrei, farsa, distopica ma non troppo. È un mio testo, è un testo mio, inedito, originale, è satirico, sì, abbastanza satirico, e forse è una piccola novità per Ragusa perché abbiamo anche un po' osato, ecco, abbiamo preso di mira tutto e tutti, ma con estrema leggerezza, credo, con ironia e anche con autoironia, perché è importante essere sempre autoironici. Questo ti nota molto intelligenza. Non lo so, questo lo devono dire gli altri, non lo so, spero, ma comunque io ci ho provato a essere autoironica e anche lui ci ha provato con la regia, che è molto scoppiettante, con questo giornalista un po' strampalato perché parte tutto proprio da un'intervista così come noi, e dalla quale poi invece si aprono tutte queste finestre sulle varie realtà, le varie categorie sociali, politiche, economiche di questa città. E questo testo mi è piaciuto, ha avuto molto riscontro, insomma, veramente si sono molto divertiti e ringrazio il pubblico ragusano per questo, perché appunto, come hai detto tu, ha dimostrato intelligenza visto che noi un po' lo colpiamo qua e là. Lo riproporremo sicuramente, pensiamo di riproporre l'appoggio del sole, c'è una bella disponibilità, un bel contatto che si sta avviando, una collaborazione, sicuramente lo riproporremo in estate, in una data da stabilire. Poi invece, per quanto riguarda Ragusa Ibla, quasi certamente l'assessorato turismo spettacolo, con le centri storici, non solo ci darà un aiuto, un sostegno per le repliche dell'Avaro di Molière, noi speriamo di poterlo offrire addirittura gratuitamente, che sarebbe la prima volta, proprio un regalo che è giusto fare al nostro pubblico e anche a tutti i turisti che ci seguono da tanto e probabilmente tornerà sempre a Ibla anche la piccola Verghiana tra i vicoli, quindi dovremmo concordare con l'assessorato anche questi altri appuntamenti. Quindi credo che sia una stagione estiva ricca, in scena con noi ci sarà tutta la nostra compagnia giovane, talentuosa, che ha voglia di fare, di mettersi in gioco e di impegnare un'intera estate, perché insomma il lavoro sarà veramente tanto, sono tutte opere molto molto impegnative, quindi ci saranno tutti i soliti nomi che ormai avete imparato a conoscere, tornerà anche Giuseppe, saremo un bel gruppo e intanto ringraziamo voi e ringraziamo tutti quelli che finora ci hanno sostenuto. Grazie.